Una colletta alimentari di solidarietà con prodotti e generi di prima necessità, indirizzati alle famiglie teatine in difficoltà ai profughi ucraini sfuggiti alla guerra. L'iniziativa è stata messa in campo e nel carrello dai rappresentanti del Comitato Quartiere Chieti con l'Associazione Papa Giovanni XXIII, la capanna di Betremme. Allo spazio Conad del Megalò, per tutta la giornata di oggi, è possibile fare la spesa acquistando uno o più prodotti in più, con un pensiero di solidarietà. Francesco Abascià del Comitato Quartiere Chieti si ritiene soddisfatto per come la cittadinanza ha risposto alla mobilitazione dei volontari. La famiglia in primis, le famiglie bisognose di Chieti soprattutto, perché tutto è sorto prima della guerra, circa un mese e mezzo fa, abbiamo organizzato, ho chiesto l'autorizzazione al nostro direttivo, Comitato di Quartiere, mi sono proposto a Luca, Luca ha aderito con entusiasmo, Luca Fortunato ricordato. Luca Fortunato, della capanna di Betremme, gruppo, sarebbe l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che è qua a Chieti, ma è un'associazione che è in vita da circa 20 anni, poco fa c'era qua Luca con noi, quando ci ha lasciato il furgone e ha subito, si è recato alla parte del supermercato di Via Tirino, quindi del Conad, per fare dei buoni pasto per le famiglie, per le famiglie povere. Ovviamente per l'occasione c'era anche da sostenere i rifugiati della purtroppo guerra in Ucraina e l'iniziativa nostra è fornire il necessario e posso dire che la città di Chieti sta rispondendo alla grande e sto facendo fatica a sistemarli nel furgone. Io ringrazio anche voi per aver aderito al nostro invito. Diciamo ai telespettatori che è possibile tutto il giorno venire qui allo spazio Conad a Megalò per aderire a queste iniziative. Sì, abbiamo due turni, siamo circa 18 persone e ripeto, sosteniamo i bisognosi di Chieti, in primis, e poi adesso anche gli ucraini.